buongiorno a tutti oggi ci troviamo nell'antica monterano uno dei borghi fantasma più belli veramente più misteriosi del lazio e fa parte del patrimonio delle dimore storiche e come vedete siamo proprio nella piazza dell'antico borgo abbiamo come dire superato la zona delle grotte etrusche e ci troviamo qui dove c'è la fontana e la chiesa che risalgono alle 600 700 ricordiamo che ci troviamo a canale monterano vicino manziana nel lazio e questo borgo venne come dire abbandonato proprio in seguito alle incursioni e al saccheggio dei francesi e oggi veramente meraviglioso perché tra l'altro non è neanche indicato in maniera proprio eclatante quindi bisogna veramente avere una motivazione per recarsi in questi in queste zone guardate seguitemi prego la nostra regia di seguirci guardate che meraviglia questa chiesa a cielo aperto quindi che ricorda quasi l'abbazia di san galgano in toscana come vedete appunto invece sulla collina in lontananza si vedono proprio i ruderi di quello che era l'insediamento abitato l'antico borgo quindi vedete ecco è veramente una meraviglia che vi invitiamo a scoprire ancora una volta queste meraviglie del lazio una vera alternativa al mare continuate a seguirci follow us e subscribe the channel seguiteci iscrivetevi al canale a presto per un nuovo appuntamento con viaggi e volti ciao ciao ciao